ciao a tutti benvenuti e ben ritrovati sul mio canale no no creation il tutorial di oggi sarà dedicato a una delle vostre richieste che mi avete fatto negli ultimi periodi allora siccome che io sul canale ho fatto un video tutorial inerente a un punto particolare che si chiama il punto susanna in tante mi avete detto che avete utilizzato questo punto per realizzare delle copertine per carrozzina ora lo scopo di questo video è quello di farvi vedere un bordo da poter abbinare a questo tipo di lavorazione cioè in specifico mi avete chiesto se potevo elaborare un bordo per poterlo ovviamente applicare alla copertina con la lavorazione appunto susanna allora io sono andata ad utilizzare una lavorazione semplicissima e non troppo pesante a livello lavorativo in quanto già il punto è molto delicato il punto già in sé si presenta bello pieno stretto e comunque importante quindi io sono andata ad elaborare un punto semplicissimo e che comunque lo potete tranquillamente adattare alla vostra lavorazione ora io siccome che in questo momento non avevo bisogno di una copertina allora io mi sono andata a fare un piccolo campione del punto susanna e intorno a questo campione del punto susanna io ci andrò a lavorare il bordino che poi voi tranquillamente potete riportare sulla vostra copertina nelle misure reali bene allora come potete vedere ecco qua il mio piccolo campione che mi sono andata a sviluppare con il punto susanna allora una volta che voi praticamente siete arrivate all'altezza che vi ritenete soddisfatte appunto dell'altezza ricevuta della della copertina sia per quanto riguarda la larghezza che la lunghezza e quindi dovete andare a sviluppare il bordo allora la prima cosa che vi consiglio di fare è di andare a fare un giro a punto basso per tutto il contorno della vostra copertina questo perché come potete vedere la lavorazione del nostro punto susanna si 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 propone praticamente in una lavoratura in una lavorazione scusate non perfetta nel nei lati cioè nel senso che non non sale su dritta ma siccome noi abbiamo questi diciamo questi piccoli nodini che sono dovuti comunque alla lavorazione che comporta il punto susanna allora noi in questo caso andiamo a fare un giro di maglia bassa per tutto il contorno della copertina appunto per andare a stabilizzare la lavorazione e poi per permettere ovviamente l'avvio per il nostro bordo io ho fatto già anche questo passaggio per portarmi avanti non ve lo faccio vedere perché è semplicissimo dobbiamo andare a lavorare un punto in ogni punto così come si presenta ovviamente il nostro lavoro per tutto il perimetro una volta che siamo giunte poi qui all'angolo dove noi ovviamente partiamo e poi chiudiamo il nostro lavoro a questo punto partiamo in questo modo allora innanzitutto io vado a fare una catenella poi entro nello stesso foro e vado a fare un punto basso da questo punto basso io mi alzo di 3 catenelle quindi una due e tre salto due punti di base quindi uno e due vado nel terzo e vado a fare un punto basso da qui riparto con 3 catenelle salto due punti di base 1 e 2 e nel terzo vado a fare un punto basso quindi vado a creare una sorta di piccoli archetti che andremo a contornare ovviamente per tutto il perimetro della nostra copertina allora quando arriviamo all'angolo siccome che noi i bordi li andiamo ad adattare in base alla lavorazione che noi abbiamo già in atto quindi questo che significa significa che quando noi arriviamo qui agli angoli automaticamente dobbiamo cercare nel miglior modo possibile di adattare la lavorazione per tutto il corso lavorativo quindi noi fino ad ora abbiamo saltato due punti e nel terzo abbiamo fatto il nostro punto basso ora se nell'angolo voi vi dovreste trovare magari con uno e due e poi nel terzo andare ad appuntare il punto basso ma ritrovandovi già sul laterale in quel caso non fatevene assolutamente un problema quello che magari vi consiglio di fare è di andare ad aumentare qualche catenella in più nell'angolo giusto proprio per permettere la lavorazione in quel punto morbida e che assolutamente non non torce quindi siccome che io adesso mi trovo in questa situazione quindi che cosa vado a fare vado a fare una due tre quattro se con quattro catenelle io vedo che la lavorazione non mi contorce quindi si presenta bene quindi salto le due maglie vado nella prossima e blocco con il punto basso e vedo che l'archetto comunque si presenta in modo regolare rispetto agli altri allora faccio così se in tal caso magari voi ho lavorato un poco più strette o utilizzate l'uncinetto un po' più piccolino allora aumentate di una catenella magari negli angoli invece di quattro ne fatte cinque ok e poi molto semplicemente andiamo a proseguire la lavorazione così come si presenta bene una volta che abbiamo terminato anche il giro degli archetti questi archetti praticamente avranno anche una doppia funzione cioè quella che ci permetterà poi l'introduzione del nastrino se casomai ne vorremmo aggiungere uno e ovviamente poi da da base per il prossimo giro quindi nel prossimo giro che tra l'altro sarà anche l'ultimo andremo a lavorare in questo modo con un punto bassissimo raggiungiamo il nostro primo archetto così ci alziamo di tre catenelle che ci vanno a sostituire la nostra prima maglia alta rientriamo all'interno del nostro arco e andiamo a lavorare un totale di due maglie alte quindi una e due che ovviamente unite alle tre catenelle abbiamo un gruppetto di tre maglie alte a questo punto facciamo tre catenelle una due e tre fatte queste tre catenelle rientriamo con l'uncinetto nella base qui che corrisponde all'avvio delle tre catenelle e automaticamente anche alla chiusura della della ultima maglia effettuata quindi io entro così con l'uncinetto in questo modo vado a prendere queste due asole riaggancio il filo e vado a fare un punto pippiolino quindi vado ad attraversare le due asole più l'ultima che avevo ancora sull'uncinetto e ho formato un pippiolino a questo punto riavvolgo il filo entro di nuovo qui nello spazio del mio archetto e vado a lavorare ancora tre maglie alte due e tre ecco qua quindi io sono andata a formare un piccolo ventaglio con un pippiolino al suo interno ora vado a fare una catenella di separazione entro nel prossimo archetto vado a fare un punto basso vado a ripetere ancora una catenella di spazio riaggancio il filo vado nel prossimo arco e vado a ripetere il mio ventaglietto con il mio pippiolino quindi entro mi lavoro una maglia alta una seconda maglia alta e una terza maglia alta vedete fatte queste tre maglie alte mi alzo di 3 catenelle una due e tre rientro con l'uncinetto in queste due asoline che si trovano praticamente alla base delle tre catenelle effettuate così aggancio il filo lo faccio passare attraverso tutte e tre le asole e chiudo ho formato così il mio pippiolino dopodiché riaggancio il filo rientro nello stesso spazio e vado a completare le tre maglie alte del mio ventaglietto rimanente ovviamente ecco qua vedete così ecco qua e questo è il secondo ventaglietto che io ho sviluppato quindi a questo punto vado a ripetere una catenella vado nel prossimo arco blocco con un punto basso riparto nuovamente con una catenella vado sul prossimo archetto e vado a ripetere i miei il mio ventaglietto scusate ecco qua quindi facciamo questo per tutto il giro perfetto ragazze allora io ho terminato il mio secondo e anche ultimo giro che rappresenta il bordo per la copertina e quindi ecco come si presenta nel suo insieme tutta la lavorazione ovviamente come vi ho detto già all'inizio io ho sviluppato semplicemente un campione del punto giusto proprio per farvi vedere ovviamente come poter adattare il bordo intorno quindi come potete vedere io sono andata ad elaborare un punto in primis semplicissimo da lavorare e che poi non appesantisca la lavorazione perché come già vi ho detto anche all'inizio voi sapete per chi ha già lavorato questo punto e ovviamente ne ha fatto una copertina sa benissimo quanto questo lavoro nel suo insieme quindi sia in larghezza che in altezza quanto importante sia la lavorazione ottenuta quindi è bene poi non andare ad eccedere secondo il mio parere ovviamente quindi non andare ad eccedere con il bordo allora visto che le richieste sono state tantissime a riguardo appunto di questa lavorazione e soprattutto di elaborarlo quanto più semplice era possibile io credo che questo proprio sia proprio il più semplice che ci possa esistere poi se voi ne trovate qualcuno che sia ancora più bello di questo e ancora più semplificato di questo ben venga anzi mi farebbe piacere se me lo fareste vedere così magari imparerò anch'io un'ulteriore lavorazione da poter abbinare a questo punto bene poi come vi dico sempre ricordatevi che quando noi andiamo a scegliere un punto e questo punto lo elaboriamo per la scelta di un progetto che sia appunto una copertina dobbiamo sapere che laddove noi prendiamo un punto per sviluppare un progetto dobbiamo essere consapevoli anche poi per l'adattamento del bordo quindi in questo caso non ci sono delle misure specifiche non c'è un numero specifico di giri di lavoro e quant'altro è tutto un adattamento sia dal punto susanna utilizzato per la copertina e sia anche per il bordo questo lo dico in primis tra virgolette per le principianti perché per le esperte non c'è bisogno di fare questo ragionamento sanno già quello che devono fare per ovviamente avviare e terminare automaticamente anche il progetto questo lo dico semplicemente solo per quelle persone che sono principianti e che ovviamente non sapendo quante catenelle avviare come fare e quant'altro incominciano ad andare un po in panico non vi preoccupate perché è tutto un lavoro che si va ad abbinare quindi se a voi piace questo tipo di lavorazione per abbinarlo alla copertina io dopo nell'info box vi metto il link per andare a vedere il video tutorial di come fare il punto susanna e ovviamente se vi piace il bordo che io sono andata ad ad adattare per in questo caso la copertina ovviamente eseguirete poi questo tutorial quindi per le principianti sappiate che i bordi vanno sempre adattati quindi non spaventatevi se voi magari arrivate qui all'angolo e non vi trovate con la sequenza del punto passo ma vi trovate con quella dell'archetto non importa perché lo farete intorno girando intorno comunque alla copertina stessa oppure magari cercate di adattare quindi farete magari un archetto in più sul giro degli archetti così poi quando arrivate agli angoli ovviamente vi trovate con la sequenza del punto basso e di sviluppare l'archetto e di sviluppare il punto diciamo archetti qui nell'angolo ovviamente quindi non voglio essere ripetitiva ma penso che il discorso è abbastanza chiaro bene io spero che questo progetto vi sia piaciuto se è così mi lasciate un bel like se avete qualche domanda me lo scrivete giù nei commenti appena posso vi rispondo quindi non vi lascio senza risposte e niente vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina così vi aggiungeranno tutte le notifiche al momento dell'uscita dei prossimi tutorial vi invito ad iscrivervi alla mia pagina che si chiama le creazioni di nunzia perché lì ci sono ovviamente le anteprime che poi andranno riportate qui sul canale e questo è tutto io vi ringrazio per avermi seguita un bacio a tutti vi rimando alla prossima ciao